Quando il sonno ci vince. Dopo aver mangiato siamo soliti metterci davanti alla tv anche perché dietro da poca soddisfazione. Spesso ci scopriamo abbioccati nonostante il poliziesco che promette intrighi internazionali, il rotocalco che siamo soliti seguire, quell'interessante servizio di approfondimento, l'intervista a quell'autore di cui abbiamo letto molti libri. Certo, le cotiche di maiale con i fagioli, il cinghiale in umido con le patate, la ribollita con la cipolla crudo, in particolare se mangiate di sera un po' di sonnolenza possono darla. Ma il messaggio di fondo è sempre quello, come nelle fiabe, trasmettere in forma piacevole insegnamenti a monumenti utili alla vita comune o all'espressione indiretta della forza dei potenti sui più deboli. E allora come potremmo non addormentarci? Quando eravamo piccoli le fiabe avevano il compito di accompagnarci al sonno in maniera dolce per fare in modo che potessimo passare la notte sereni riposando tranquillamente. Però va detto che se analizziamo i contenuti di queste ci rendiamo conto che forse qualcosa di sbagliato al loro interno c'è e che se qualcuno si è ritrovato con qualche deviazione forse lo deve alle troppe favole. Ne citerò qualcuna. C'era una volta un re e una regina che avevano dodici figli maschi. Allora il re disse alla moglie, se il tredicesimo figlio sarà una femmina i dodici maschi moriranno perché ella possa godere di tutte le ricchezze. E ordinò dodici mare. Raperonzolo. La mamma incinta era diventata magra magra e disse se non mangio i raperonzoli morirò. Il padre entrò più volte nel giardino della strega per prenderli e quando questa se ne accorse gli disse che non avrebbe fatto malefici a patto che la nascitura gli fosse data in dono. Il lupo e i sette caprettini. C'era una volta una capra che aveva sette caprettini e li amava come una mamma ama i suoi bimbi. Un giorno che doveva andare nel bosco a fare provviste gli chiamò e disse loro cari piccini io esco a fare provviste guardatevi dal lupo perché se viene qui vi mangia tutti. Belò e si avviò fiduciosa. I piccini chiusero subito alla porta con il chiapistello. Poco dopo qualcuno bussò alla porta. Aprite sono la mamma. Ma dalla voce rauca capirono che era il lupo. Ansel e Gretel. C'era una volta un taglialegna che faceva fatica a sfamare la sua famiglia. Un giorno accadde che non riuscì più a trovare sostentamento per tutti. La notte non riusciva a dormire e sua moglie gli disse domani mattina all'alba prendi i bambini dai a loro del pane e conducili in mezzo al bosco. Accendi un fuoco e lasciali soli laggiù perché non possiamo più nutrirli. Ora se i bambini si preoccupano quando vedano la mamma con il pancione, se le verdure non le vogliano vedere neanche di finte, se il babbo con il mal di gola si ritrova fuori dal portone a subire interrogatori lunghissimi al citofono anche sotto la fioggia battente, se i ragazzi preferiscono stare a giocare alla playstation sul divano piuttosto che andare a cercare funghi, un motivo dovrà pure esserci. E poi ci sono delle cose nelle fiabe che non tornano, per esempio biancaneve. Prendiamo l'inizio. La mamma mentre cuciva alzò gli occhi per guardare la neve, si punse e tre gocce di sangue caddero sulla neve. Il rosso era così bello su quel candore che la pensò. Avessi un figlio bianco come la neve, rosso come il sangue e nero come il legno della finestra. Poco tempo dopo, almeno nove mesi, diede alla luce una bimba con la pelle bianca come la neve, rossa come il sangue e con i capelli neri come il lebano. Allora, bianco va bene, era la pelle. Nero ok, erano capelli, ma rosso? Ora, un sospetto mi è venuto. Ho fatto anche delle ricerche, ma biancaneve che soffrisse di infiammazione e non ci ha scritto da nessuna parte. E poi, a proposito di rosso, ora io posso ammettere che uno ci possa vedere anche poco, che i nipoti non sono così preseidi come dovrebbero. Ma credete, ho provato a prendere il pastore tedesco di vicino e mettergli la vigia la notte della mia nonna, ma tutta ho essa somiglianza e mi pare esagerato. Insomma, le fiabe contengono delle incongruenze che invece di addormentarci rischiano di tenerci sveglio. E poi, una domanda su tutte i massilla, ma il principe azzurro era sempre lo stesso. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani, nello stesso posto, alla stessa ora, con la stessa voce.